Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Prudenza per vento forte segnalato in A12 tra Carrara e Colle Salvetti. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pluneta. Sul raccordo Bettolle-Perugia, chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Foiano della Chiana in direzione Bettolle. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso in entrata e uscita lo svincolo di Follonica Est in direzione Livorno. I treni per un guasto temporaneo agli impianti di circolazione nella stazione di Faenza. I regionali potranno subire fino a 30 minuti di ritardo. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, la città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio!